Fembre alta e code interminabili fuori dagli Apple Store di quasi tutto il mondo per l'uscita del nuovo iPhone 6s, l'ultima release del melafonino. Qui siamo a Tokyo, in Giappone dove in centinaia hanno atteso tutta la notte sfidando anche la pioggia per poter essere tra i primi ad aggiudicarsi il nuovo modello dello smartphone di Apple, il cui prezzo varia all'incirca tra i 650 dollari del modello da 16 giga di memoria e i 1000 di quello da 128. L'immagine dell'adolescente che passa ore a giocare appartiene al passato, il mondo dei videogiochi è sempre più adulto e soprattutto sempre più femminile. A far sbiadire le immagini stereotipate ci pensano i dati, secondo il rapporto 2015 della ESVI, l'associazione italiana degli editori e sviluppatori di videogame, in Italia dal 2011 al 2015 la percentuale di videogiocatrici è passata dal 45 al 49% e la fascia d'età con più appassionati è quella fra i 35 e i 44 anni. Si chiama Connect the World ed è il progetto di Facebook per portare internet nei campi profughi. L'ha annunciato lo stesso numero uno del popolare social network Mark Zuckerberg durante il forum delle Nazioni Unite a New York, sottolineando che l'azienda lavorerà in collaborazione con l'UNHCR, l'alto commissariato ONU per i rifugiati, per aiutare i popoli più poveri ed emarginati del pianeta.